e lo di è al centro dei riflettori all'evento gq man of the year 2023 a milano la cantante è sexy con la super scollatura il look firmato giorgio armani lascia ben poco all'immaginazione la romana 33 n posa sul red carpe insieme al suo andrea iannone accanto al pilota 34 n sorride e mondana è felicissima la di patrizia è la donna del momento con un tour che ha registrato ovunque il sold out icona di stile e bellezza ha ritrovato la stabilità sentimentale con iannone al suo fianco ormai da oltre un anno a palazzo serbelloni dove va in scena la serata mondana debutta in coppia davanti ai fotografi con andrea i due si tengono stretti davanti agli obiettivi fieri del sentimento che li lega elodie è sicura del suo outfit come sempre curato dalla fidatissima stylist alba melendo la mise è interamente griffata giorgio armani prive porta un completo black white sotto indossa pantaloni neri o versizia vita bassa che lasciano intravedere l'intimo con cristalli swarovski sopra ha un body bianco con una scollatura profondissima al punto da lasciare scoperto persino l'ombelico all'altezza del seno il capo è tenuto da un semplice filo trasparente scarpe con tacchi altissimi ai piedi l'ex volto di amici porta i capelli lisci e sciolti con la riga in mezzo e a un make up dai toni naturali il centauro che nel 2024 terminata la squalifica potrà tornare in pista e in tono con la sua donna è un vero maccio con la camicia bianca lasciata sbottonata sul petto che mostra i tatuaggi e pantaloni grigio scuro classici e leggermente gessati calza mocassini di pelle nera questo per la coppia è il primo red carpe da fidanzati